Re Mida. C'era una volta un re di nome Mida che viveva in un castello con la sua piccola figlia. Re Mida era molto, molto ricco. Si diceva che avesse più oro di qualsiasi altro re del mondo, eppure ne desiderava sempre di più e di più. Il re era cresciuto tanto bene con il suo oro che lo amava sopra qualsiasi altra cosa al mondo. Un giorno, mentre stava ammirando il suo oro nella sua camera, apparve in piedi davanti a lui una fata. Mida, sei l'uomo più ricco del mondo, disse la fata. Non c'è re che ha tanto oro quanto te, può essere, rispose il re, ma ne vorrei molto di più, perché l'oro è la cosa migliore e la cosa più bella del mondo. Se potessi avere un solo desiderio, disse il re, chiederei che tutto quello che tocco si trasformasse in oro. Io ti concedo il tuo desiderio, disse la fata. Al sorgere del sole, domani mattina il tuo minimo tocco trasformerà tutto in oro, ma ti avverto, questo regalo non ti renderà felice. Il giorno dopo, il re Mida si svegliò molto presto. Era ansioso di vedere se la promessa della fata si sarebbe avverata. Sfiorò il suo letto e il letto si trasformò in oro. Poi toccò il tavolo e le sedie e in un istante si trasformarono in oro massiccio. Il re scoppiava di gioia. Il re corse attorno al castello per toccare tutto ciò che poteva vedere. Il suo dono magico trasformava tutto in brillante giallo oro. Il re appena sentì fame andò a mangiare la sua colazione. Ora accade una cosa strana. Quando alzò un bicchiere d'acqua fredda da bere, questa divenne d'oro massiccio. Non una goccia d'acqua poteva passare per le sue labbra. Il pane si trasformava in oro sotto le sue dita. La carne era dura, gialla e brillante. Non riusciva a mangiare niente. Tutto era d'oro, oro, oro. La sua piccola figlia arrivò correndo dal giardino. Di tutte le creature viventi era quella che gli era più cara. La baciò per darle il buongiorno e all'istante la bambina diventò una statua d'oro. Una grande paura si insinuò nel cuore del re, spazzando via tutta la gioia dalla sua vita. Chiuso nel suo dolore, chiamò e invitò a palazzo la fata che gli aveva dato il dono di trasformare in oro tutto quello che toccava. Oh fata, pregò, toglietemi questo dono orribile. In quel momento la bella fata era in piedi davanti a lui. Sei sicuro di non desiderare più di trasformare in oro quello che tocchi, chiese la fata. Sono sicuro, disse il re. Non penso più che l'oro sia la cosa più importante del mondo. La fata rapidamente annullò l'incantesimo e tutto tornò alla normalità. Remida imparò la lezione e non fu mai più avaro. Fine